Mettiti sta benedetta parrucca Ma dici a me, gne 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 Vita, dolcezza, speranza, nostra salve Prima di dirti che non sono d'accordo con quello che hai scritto Vorrei farti degli esempi La prima cosa che facciamo quando andiamo a comprare un nuovo telefono E mettergli la custodia Giustamente, perché lo tutela Questo però va a coprire la parte estetica del telefono Un altro esempio è mia mamma Lei va a mettere una tovaglia sopra il tavolo E poi un'altra tovaglia ancora per coprire la tovaglia se no si rovina Per non parlare del tappeto fuori la porta Te lo mostro Eh sì, ha messo un tappeto sopra un altro tappeto Per non sporcare il tappeto precedente Cosa voglio dire con tutto ciò? Che una cosa mi è rimasta bella nella vita La pelata E non la vado di certo a coprire con quattro peli Quindi per rispondere alla tua domanda No Parrucca no Non ci piace Sto bene così Mi piaccio così E va bene così Ho dimenticato di chiudere Ma cambiamo